L'Europa ci impone di utilizzare il latte in polvere, la Lega Nord come risponde? Rispondiamo come abbiamo risposto sul vino. Allora, è impossibile imporre a un paese come il nostro, diciamo che in ogni regione ha delle specialità casearie particolarissime. Noi abbiamo imposto che tutti i formaggi e i latticini venissero realizzati con un prodotto fresco, con latte fresco. Imporci di levare l'obbligatorietà del latte fresco, per cui aprire i latticini in polvere, vorrebbe dire poter fare formaggio con tutte le schifezze che arrivano da tutto il mondo. Noi dobbiamo ribellarci, ci siamo ribellati quando volevano che il vino barricato, noi lo teniamo in barricchi, in botti, 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, si poteva tenere poche settimane in mezzo a dei truccioli. Sì, il gusto forse assomiglia, ma il prodotto è completamente diverso. Noi abbiamo dei grandi prodotti, dobbiamo mantenere, valorizzare e proteggere questi grandi prodotti. Per cui che il governo si attivi, l'Europa sta sbagliando completamente, per l'ennesima volta sta sbagliando e noi non percorriamo quella strada.